L'obiettivo è quello di migliorare la viabilità e di rendere più sicure le strade, spesso al centro di incidenti. Altre due rotatorie sono in arrivo a Termoli, una in prossimità dell'incrocio di via Asia, via India e via Giappone e l'altra di quello tra via Sangro e via Asia. I progetti che partiranno a breve sono stati presentati dal sindaco Angelo Sbrocca insieme al dirigente ai lavori pubblici Gianfranco Bove e al consigliere Gianni Di Tella. Le zone interessate dai lavori sono state valutate come soluzione migliore per rallentare la velocità e mettere in sicurezza dei tratti pericolosi e al centro anche di segnalazioni da parte dei residenti. Nei prossimi mesi sono in programma altri interventi simili a Riovivo, dove da tempo anche il comitato di quartiere denuncia la pericolosità della strada principale. Sono previsti anche degli autovelox mobili. Oltre alle rotonde, nuovo asfalto in via Asia e in marciapiede di via Cina sarà adeguato alle persone con disabilità e sistemato quello di via Sangro fino a via Asia. Le rotonde di via Arno e via Volturno saranno inoltre illuminate. Presto verrà eliminato il semaforo di piazza del Papa con un raccordo specifico. Il sindaco Sbrocca ha evidenziato anche i benefici della piccola rotonda realizzata all'entrata del parco comunale, parlando di una vera e propria lotta contro l'alta velocità. Sono sicuro e osservato che avremo la meglio sugli automobilisti indisciplinati che non rispettano limiti e segnaletica.